Grazie a tutti. queste ragazze che ci ripartiamo dal titolo e che bisogna prendere il nostro bisogno, questo è il vostro relato. Sì, esattamente, un progetto si può realizzare, se non si realizza l'uomo può tentare a realizzarli, quindi ci diamo la parola, sicuramente l'iniziativa, io mi so carizzatemi, è quella di tenere i ragazzi in traccia di tutti, un po' forte verso l'altro, verso la musica, questa connessione è una musica che è l'ideale, poi grazie per il mio, per il presidente e del mister Angelo Siciliano, di cui io mi fido sicuramente perché sono tanti anni che lo vedo sempre alle prese di bambini, allenamenti ragazzi, eccetera, quindi cerchiamo di prendere il nostro tempo. Tu la dittorale, la calce, la calce, la calce, la calce, la calce? Sì, ma meglio proprio per me. Per me, eh. Sì, però ho fatto un gol, un gol, un manetto, un gol, un manetto, un gol, un pigno, tutto le gambe, il portino, un pigno, un pigno, un pigno, un pigno, un pigno, un pigno, Ma ora è parecchio perché noi ci vedremo più ammati di andare in un progetto. Va bene, se mi sono studente. Va bene, dà lo vediamo. Sì, dà, si va. Noi speriamo di venire. Per pensanti del... ... 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 realmente... ... sono... ... 100% tutto il suo e sono parecchio alla zona di distruzione ... che è tutto come è andata completa. Ok, buona via. E' il progetto, ovviamente, non importa come facevamo la famiglia, mi sa che l'ha fatto tanto fare l'altro, ... ma io... ... sia a livello non soltanto fascista, ... ma proprio cercare... ... cercare i due spunti, l'uno l'ultimo. L'uno lo sanno. E' un valore. ... ... questo è quello che questi ragazzi possono avere le persone, ... e che lo porte stare... ... per me e mi pare, per me e mi torno di me. ... ma è importante anche, se mi pare... ... quella da... ... e la comunità... ... e non me lo sanno per me, ... e non ho mai visto la prima cosa... ... ma questi... ... non ho più rinforzati, ... non ho più vitrodisi... ... ma non ho più rinforzati... Grazie a tutti Grazie a tutti